Con l'elezione mia alla presidenza riprenderemo un po' in mano quel filone delle società partecipate della fusione che è importantissima, i soldi che si stanno perdendo a causa della mancata fusione, ma anche la questione dell'aeroporto e tanti altri temi che attraverso la commissione di garanzia e controllo potremo trattare convocando le parti sia istituzionali che gestionali per cercare di capire qual è l'andamento e cercare anche di risolvere se è possibile qualcuno di questi temi e di questi problemi. Sarà una casa ovviamente trasparente, quindi partecipazione pubblica anche da parte dei cittadini e ci auguriamo che si lavori tutti i commissari verso l'obiettivo che è il bene comune. Ma volendo guardare un po' oltre, c'è altro alla luce di questa nomina? Beh certo siamo riusciti a riunire alcune anime che prima erano un po' più divise sulla mia persona e questo ovviamente mi fa piacere ma al di là di quello cercando di mettere insieme alcune aree politiche che vivono la stessa area di centro e destra. Quindi è un primo approccio, non è ancora l'unione ma è un primo approccio di progetto anche perché chi ci governa adesso non è che sia facendo grandissime cose e ci dovremo in qualche maniera preparare e cominciare a discutere per il 2019 perché fra due anni e mezzo si torna al voto.